Allora, si vuole il rinascimento, dunque prendiamo in esame questa ballata, questa canzone, che è tipica dell'umanesimo e in modo particolare ci svela il pensiero di un grande artefice, una grande espressione di questo periodo, che è Lorenzo il Magnifico. Notate come Lorenzo il Magnifico, pur avendo fatto parlare di sé, pur avendo tenuto in mano Firenze con una relativa saggezza, pur avendo realizzato un equilibrio in tutta Italia, per cui per un determinato periodo abbastanza considerevole si è potuto godere della pace, muore molto giovane. Per noi, morire a quest'età quarantenne sarebbe una disgrazia. Allora la vita, anche per chi era ricco, potente, uomo di prestigio, non aveva gli anni di cui possiamo godere oggi. Sappiamo che dopo la sua morte nel 1492, cominciano, ne abbiamo già parlato con Machiavelli e con i giardini, le calate degli stranieri in Italia, molto spesso chiamate degli stessi politici italiani. Lorenzo, proprio perché si era circondato di uomini prestigiosi nell'arte, in tutti i vari aspetti artistici, viene definito appunto il Magnifico. Notate il suo motto scritto in latino. Insomma, muoviti, muoviti, datti da fare, lente, però, con prudenza. E la prudenza del diplomatico. Ebbene, anche Lorenzo il Magnifico compone questa canzone carnevalesca, una canzone allegra. Vedete che è una ballata finalizzata ad essere cantata, quindi a un certo ritmo, ed è quindi costituita da degli ottonari. Le stanze o strofe sono sette. Perché la chiamiamo trionfo? Perché i carri allegorici di Carnevale, sostanzialmente, almeno per quel che mi dice la storia, furono inventati da Lorenzo il Magnifico. Quindi questi carri che venivano trasportati, in questo caso, su questo carro, c'era rappresentata due figure mitologiche, Bacco e Arianna, la sua sposa. Ricordate che Arianna era stata abbandonata da Teseo, figlia del dio dell'oltretomba. Bacco è il dio del vino, dell'ebrezza. e così celebrato anche in ricorrenze orragiastiche in Grecia. Non peraltro Catone, il censore, vedeva con sospetto anche la religione greca, le tradizioni greche, e aveva messo in allerta il popolo romano. Così differente, secondo la sua prospettiva. Poi, anche il popolo romano cominciò a conoscere la ricchezza, cominciò a conoscere il benessere, e quindi queste abitudini passarono anche nella tradizione latina. Probabilmente è stata composta nel 1490, quindi due anni prima della morte di Lorenzo il Magnifico, presentiva forse, Lorenzo il Magnifico, anche perché non è che questa morte arriva così all'improvviso, soffriva di gotta, una malattia che aveva ereditato dal padre, ma in maniera molto più grave. Poi si aggiunsero altre complicazioni, ferite che andarono in cancrena, quindi tutto un insieme di situazioni che lo portarono ancora relativamente giovane alla tomba. Cosa possiamo dire ancora? Che il concetto di fondo noi lo traiamo da Orazio e Ovidio, cioè il carpe diem. Prendi l'attimo fuggente, perché di domani non abbiamo alcuna certezza. Godi quello che puoi godere. è una prospettiva che si oppone a quella di Seneca quando Seneca ebbe a scrivere il De Brevitate Vite. Seneca faceva notare che la vita non è breve, ma la responsabilità degli uomini è che si abbandonano ad occupazioni insane e sciocche. due quindi prospettive, quella di Seneca, Stoico, quella di Orazio Ovidio. Possiamo definire questa prospettiva di Orazio Ovidio Epicurea? Punto interrogativo. Io continuo ad essere molto, molto, molto tituante in riferimento all'Epicuro adottato o adottato da quegli uomini rinascimentali o adottato dai nostri critici, perché quell'Epicuro sembra quasi essere molto vicino all'Epicuro di Cicerone. Ricordiamoci che Epicuro non ha mai invitato all'Edonismo. Non confondiamo l'Edonismo con l'Epicureismo, anzi, noi sappiamo che Epicuro insiste sulla centellinazione proprio dei piaceri. Evitiamo un piacere oggi eccessivo per non cadere poi domani in una sofferenza. Io cercavo di illustrare con molta semplicità questo pensiero. Se io sono goloso di una bella torta alla panna, accontentiamoci di un pezzettino, perché se la mangio poi tutto, rischio il giorno dopo di star male e di, con una grossa indigestione, contorcervi dal mal di pancia. Ecco, Epicuro ragionava in questo modo, ma poi Epicuro aveva sempre invitato i suoi discepoli a non occuparsi di politica, perché la politica non poteva dare serenità. Qui invece abbiamo degli uomini che si occupano di politica. Quindi già nell'altra lezione, quando ho riferito di Machiavelli e di Guicciardini, qualcuno ha ritenuto che Machiavelli fosse sostanzialmente Epicureo, e questo si evince da molti testi di letteratura odierni, io non so in che misura possiamo definirlo Epicureo, sia Machiavelli, sia Guicciardini, sia un Lorenzo il Magnifico che avevano le mani in pasta e si occupavano di politica. Proprio un argomento, proprio un impegno che veniva esorcizzato da Epicuro, come un impegno che dava solo preoccupazioni e certamente non invitava l'uomo alla serenità, alla pace, all'indifferenza. Ora, noi vediamo com'è costituita questa canzona carnevalesca. Abbiamo quattro versi iniziali che vengono definiti ritornello o ripresa. Notate le rime, giovinezza, certezza, tuttavia sia, quindi A, B, B, A. Poi si ha una seconda parte, la strofa vera e propria, dove si incomincia con C, D, C, D, vedete, Arianna inganna, il D viene ripetuto, ardenti, contenti, genti, e poi si ritorna con il B, B, A, tuttavia, sia, tuttavia, sia, per poi arrivare a certezza. In modo particolare noi troviamo due versi che vengono ripetuti quasi in modo ossessivo. Chi vuole essere lieto sia, di domani non c'è certezza. ed è la conclusione di tutte e sette le stanze. Dunque, come al solito, quando commento qualche poesia, vi ricordo dell'Apocope, qui non le metto sempre in evidenza tutte, io l'ho messa in corsivo, là dove cade una vocale, UOL, vedete, ESSER, DOMAN, qui ce ne sono tre. Poi, la A invece è l'anastrofe, è l'un dell'altro ardente, è l'uno ardente dell'altro. Quando cioè dobbiamo mettere una costruzione, come normalmente troviamo in italiano, laddove ci sono dei vocaboli che vengono anticipati per dare una certa cadenza, per rispettare le rime, e per rendere in modo particolare questa serie di ottonari cantabili. Adesso cosa dobbiamo vedere? Vediamo i personaggi mitologici. Ecco, si dovrebbe valutare appunto la mitologia così come viene ripresa nel Rinascimento. La mitologia ripresa nel Medioevo in qualche modo era oggetto di allegoria. Dante riprende la mitologia, vi ricordate, dalle Arpie, a Caronte, a Minosse, però quelle figure mitologiche venivano assorbite nella prospettiva cristiana. Qui invece, con la nuova prospettiva umanistica rinascimentale, vengono riprese per quello che sono. Evidentemente non sono più delle divinità in cui gli umanisti credono, ma questi personaggi diventano la metafora di qualche cosa. Baco e Rianna sono la metafora dell'evrezza, del vino, di quel vino che fa dimenticare le preoccupazioni di questa vita, che ci rende allegri, cui ci si può abbandonare liberamente. Però, però, vicino a queste figure mitologiche io le ho evidenziate in giallo. Baco, Rianna, Ninfe, Satiretti, Satiretti erano degli esseri mitologici metà capra e metà uomo, figurati rappresentati di molti differenti. Nuovamente Ninfe, Baco, Ninfe, l'amore, e poi ancora Sileno, il maestro di Baco, Mida, che aveva avuto la possibilità da parte di Baco di trasformare in oro tutto ciò che toccava, e ancora Baco, amore. Vedete, le ho messe in evidenza, sono tutte metafore che hanno dietro sé che cosa? Beh, Mida, l'oro, l'argento, simbolo della ricchezza, Sileno, simbolo della vecchiaia, e maestro di Baco, l'amore, cui celebrato non tanto come amore platonico, ma come amore eros tipicamente carnale, quale si legava alle manifestazioni orgiastiche greche, le Ninfe, che vengono ingannate dai Satiretti, Ninfe che sono queste belle fanciulle dei boschi. Ecco, così abbiamo visto un po' questa impostazione, l'impostazione emetrica, come nasce un trionfo, una canzone carnaveresca che ha il compito di accompagnare un trionfo. C'è però qualche cosa che si dovrebbe mettere in evidenza. C'è in tutta questa cantilena un senso di sofferenza. Innanzitutto questo ripetersi senza sosta, di domani non c'è certezza. E lo ripetiamo quante volte? Otto, di domani non c'è certezza, di domani non c'è certezza, di domani non c'è certezza, non c'è certezza di domani, oltretutto sono tutte delle anastrofe. ci dà il senso di una vita che non è più in mano all'uomo. È in mano a che cosa? Non più neanche a una providenza, perché l'uomo ha voluto sganciarsi dal trascendente. Tutto è caso, e l'abbiamo visto in Guicciardini, tutto è collegato ad una contingenza che può, pensate alla fortuna di Machiavelli, sconvolgere ogni cosa. Può essere un nemico che si è fatto più invadente e porta via la sua potenza per sostituirsi, può essere la malattia, può essere la morte, può essere l'indigenza. Infatti, questo tempo fugge e inganna. la speranza è venuta meno. La speranza è venuta meno. E questo tuttavia, che voi vedete ripetuto più volte, tuttavia, perché deve fare rima, consiglia, tuttavia, tuttavia, vuol dire, proviamo a leggere i primi due versi, quanto è bella la giovinezza che si fugge tuttavia, che nonostante tutto fugge. L'abbiamo visto anche qui, fugge. Sì, sì, la giovinezza è bella, ma nonostante che fugga, c'è questo senso del fatto che incombe, del tempo che di cui l'uomo non è più padrone e su cui piomba in modo sgradevole un'incertezza. Leggiamola, questa è Varcha e Arianna, abbiamo detto, due metafore, belli, la bellezza, vicino alla ricchezza, vicino al vino, vicino al sesso, vicino alla spensieratezza, all'ebrezza, c'è la bellezza, ardenti l'uno dell'altro, perché il tempo fugge in ganna, sempre insieme stanno contenti. l'unica medicina per contrastare la fugacità del tempo e le brutte sorprese è l'ebrezza. L'ebrezza è il godimento del momento. Infatti, a Varcha e a Arianna, seguono le ninfe, queste ninfe e altre genti, sono allegre, tuttavia, nonostante tutto. e quindi, se sono, nonostante tutto, allegre, anche noi dovremmo essere. Ricordiamoci però che qui abbiamo a che fare con Bacco e Arianna, con le ninfe, quindi dei personaggi che non hanno una, non sono destinati alla morte. Gli uomini sono destinati alla morte. Poi, alle ninfe, susseguono i satiretti, innamorati delle ninfe e qui c'è l'immagine bucolica, un'immagine che si ripete ormai da tempo, caverne, boschetti e i satiretti che tendono agguati alle ninfe e sono evidentemente agguati d'amore. Or, da Bacco riscaldati, ballon, salton, tuttavia. Gli ho messi in crassetto rosso, qui ho messo belli, poi abbiamo il ballare, il saltare, nonostante tutto, nonostante la fugacità del tempo e di nuovo il pensiero che è il pensiero dell'incertezza del domani. Di nuovo le ninfe, amano essere ingannate, non può fare a amor riparo se non genti rozze ingrate. Le ninfe non possono rifiutare l'amore dei satiretti perché solo la gente rozza e ingrata rifiuta l'amore. possiamo parlare qui di un dolce stil novo? Ma un po' stircchiato. Il dolce stil novo non ci propone un amore erotico ma un amore che eleva l'uomo attraverso la presenza della donna quindi sì c'è una vaga rimembranza del dolce stil novo ma direi proprio che io l'ho nominato perché ho visto che alcuni testi lo hanno tirato in ballo ma io qui proprio non lo vedo. ricordiamoci che c'è un iperbato non può fare amor riparo dunque se dunque solo genti rozze ingrate possono non possono fare riparo ad amore notate anche come qui ci sia una concordazione sensum cioè questo può è a singolare gente qui è a plurale comunque gente è un collettivo e quindi il verbo viene messo al singolare probabilmente anche per necessità metriche di nuovo abbiamo visto prima ballon salton e qui suonon salton suonare ballare saltare amare bellezza eccetera tutto per sembra quasi dimenticare dimenticare che cosa del fatto che di domani non c'è certezza questa soma che viene in dirietto dirietto è un arcaismo salvare per dietro sopra l'asino questo peso sopra l'asino è sileno sileno è il maestro di bacco e di nuovo io ho messo in evidenza in rosso in grassetto questi aggettivi ebro ubriaco e lieto già di carne ed anni pieno di carne ed anni grasso proprio è un'immagine abbastanza volgare però proprio su queste immagini si gioca la spensieratezza il quasi non voler essere consapevoli della propria condizione dimenticare che non può star ritto almeno ride e gode tuttavia nonostante tutto vedete leggeremo poi in seguito tutti questi aggettivi questi verbi che ci danno l'alternativa al domani non c'è certezza mi dà quel re che aveva ricevuto tabacco il dono di trasformare tutto in oro mi daviendo poco storo ciò che tocca diventa oro e che giova ver tesoro s'altro poi non si contenta non è che l'oro cui venga disprezzato però l'oro si introduce assieme a questo godimento della carne e bisogna in qualche modo accontentarlo che dolcezza vuoi che senta chi ha sete tuttavia bisogna accontentarsi la sete non essere mai contento di nulla quindi anche tendere quello che è tipico dell'uomo a qualcosa di superiore è considerato un male aver sempre sete è male bisogna godere del presente altrimenti non è possibile colmare quel buio dell'incertezza del domani e qui Lorenzo il Magnifico che si pone come maestro ciascun apra degli orecchi di domani nessuno si paschi i paschi devi fare da pascere nessuno si deve nutrire del domani oggi sian giovani e vecchi lieti ognun femmine e maschi ogni tristo pensier taschi tristo è una variante toscana facciam festa nonostante tutto chi volesse direto si è di domani non c'è certezza facciam festa donne e giovinetti amanti viva bacco viva amore anafora ciascun suoni balli canti potremmo vedere un climax ma non penso che proprio si possa non mi pare che ci sia né un climax ascendente né discendente arda il core arda di dolcezza c'è un anastrofe corcordis alla maniera latina e un monotongo viene bene la U non fatica non dolore anafora ciò che esser convien sia e il fatalismo sia quel che deve essere chi volesse dietro si è di domani non c'è certezza quindi per sintesi vediamo che cosa ci propone questa canzone bisogna esaltarsi per la bellezza ballare saltare suonare essere ebri e lieti dare sfogo d'altra parte sino al carnevale carne vale la carne deve prendere sopra mente lo spirito ridere godere godere della ricchezza dell'oro della festa di vacco di amore suonare ballare cantare senza ricordare le fatiche e i dolori B bu 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 bei